buongiorno ci siamo svegliati con questa vista magnifica stare qui tutto il tempo ma devo andarmi a fare assolutamente una doccia perché sono stato pietoso è un sogno incredibile e buongiorno da una faccia davvero stravolta perché ieri sera infatti chi mi segue su instagram già ha visto alcune storie che ho fatto intanto apre questa finestrella qui nel bagno sono davvero stravolto perché ieri sera siamo stati parlo a bassa voce perché stanno ancora dormendo qui tutti soprattutto al piano di sotto e niente ieri siamo stati al sesgo du soleil davvero è stata una serata bellissima seguite su instagram già sapete che avevo ricevuto un regalo praticamente era una mi sono messo un po fuori qui c'è una vista magnifica bellissima davvero si sta molto molto bene anche se fa un po freddino in realtà non fa proprio molto 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 caldo lì c'è sempre castello sant'angelo il tevere è bello tranquillo stamattina vedevo gente correre sul lungo tevere ho detto mamma mia non riuscirei mai a farlo in questo momento piuttosto mi sbaglierei qui sopra allora vi dicevo praticamente avevo ricevuto un regalo una sorpresa pasquale praticamente era una era una busta che sulla quale c'era scritto questo questa sorpresa ti piaceva di sicuro più dell'uovo di pasqua in realtà è stato proprio così prova a mettermi da quest'altro lato però non so se mi vedete bene praticamente intorno alle sette visto che doveva aprire questa busta per la sorpresa intorno alle 19 in quanto lo spettacolo era alle 20 ho aperto questa busta e ci siamo diretti tutti verso verso questa zona insomma di roma dove appunto c'era il circo ragazzi un'emozione incredibile anche perché per chi mi conosce da tantissimo tempo io sono super appassionato da almeno vent'anni del circuito solel già mi è capitato di vederlo una volta e sono rimasto davvero sempre ma ci sono oddio c'è corva cosa vuole questo dicevo sono davvero dicevo davvero mi è piaciuto tantissimo seguo molto i loro spettacoli anche su internet su youtube insomma sono super super fan e all'inizio ero un po stonato poi quando siamo entrati ho avuto un'emozione incredibile che amo tantissimo l'arte circense poi amo tantissimo il circo di solella anche perché sono degli artisti straordinari magari vi faccio vedere qualche immagine di quello che ho ripreso ma visto che vedo spesso i loro spettacoli sui web su youtube altri video che loro propongono anche su internet ovviamente la differenza c'è perché dal vivo è tutta un'altra cosa vi entro dentro oggi non oggi è un blog così dicevo sono stati molto 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 bravi le musiche i tempi dell'esecuzione delle performance davvero straordinari super precisi super perfetti lavoro dietro che mi affascina perché inimmaginabile è l'incastro dei tempi di qualsiasi movimento di qualsiasi persona che ci lavora ragazzi davvero è uno spettacolo che merita tutti i soldi spesi se avete occasione andatela a vedere magari anche in altre città qui in italia non vengono proprio spessissimo infatti io sono sempre super informato ma ma questa volta paradossalmente non avevo visto nessun aggiornamento per quanto riguarda il tour in italia e quindi mi hanno fatto davvero una super super sorpresa infatti ero talmente emozionato che quando siamo usciti da lì visto che avevamo già cenato prima di andare avevo una fame incredibile perché stavo morendo di fame sembrava che avessi fatto io questa performance insieme a loro quindi avrò sprecato secondo me 10.000 calorie anche perché eravamo un ottimo posto si vedeva benissimo eravamo molto vicini proprio agli artisti tutto modo anche di registrare qualcosina è stata un'esperienza davvero bellissima vi lascerò sicuramente qui qualche immagine per farvi sognare un po un'esperienza davvero bellissima per farvi sognare un'esperienza davvero bellissima a Grazie a tutti. 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 da un po' e a tutti. Grazie 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 a tutti. purtroppo perché empatizzo molto di una cosa che devo e sto imparando a fare meno altrimenti mi prendo i problemi del mondo e muoio prima degli altri ecco fatemi sapere se anche voi siete un po così se siete molto empatici io sto cercando di lavorare molto e su delle cose sono riuscito a modificarmi abbastanza fatemi sapere però se anche voi siete fatti in questo modo se state cambiando magari il vostro modo di reagire a quello che vedete all'esterno anche se non vi tocca direttamente oppure preferite proprio essere così in tutti i casi fatemi sapere pure se questi video quando sono in trasferta vi piacciono questi vlog un po così perché giustamente mi rendo conto che quando sono fuori casa è un po difficile farvi capire una cronologia delle cose e quindi alcuni vlog possono venire un po così io sono spiaggiato su questo letto e penso che ci rimarrò anche perché qui ovviamente ma credo anche tra una settimana quando voi vedrete questo video ci sarà la pioggia c'è la pioggia c'è il freddo ragazzi non ne posso proprio più fatemi sapere anche da voi se c'è brutto tempo o se vi state già gustando delle giornate primaverili perché avete visto che a Roma non sapevo proprio come vestirmi è vero è che in quel caso avevamo fatto una nottata anche piacevole voglio dire senza dormire quindi avevo quel freddo addosso la mattina non volevo neppure alzarmi dal letto però alla fine poi siamo andati a mangiare mi sono subito subito ripreso comunque senza troppe chiacchiere altrimenti questo video viene lunghissimo io vi auguro una buonissima giornata se l'avete visto e se state vedendo questo video di mattina ad ogni modo vi mando un grandissimo abbraccio come sempre se vi è piaciuto questo video ovviamente lasciatemi il vostro like fatemi sentire la vostra vicinanza un abbraccio infinito alla prossima ciao